Allora, sì, è la prima volta che mi trovo a registrare un audiolibro, ma in effetti non mi sono sottratto perché Pinocchio di Collodi l'ho letto ad alta voce tantissime volte. Ho tre figlioli, diciamo che per ciascuno c'è stata almeno 3-4 volte la lettura del Pinocchio, mi piace tanto, mi piace tanto provare a leggerlo così come mi è stato raccontato, quindi non sono un attore, ma lo leggo con il mio accento toscano, mi piacciono i toscanismi della lingua del Collodi, mi piacciono le voci così come le facevo ai miei figlioli per addormentarli e quindi sono qui a rifare una cosa che ho fatto tante volte da babbo. Il giorno di poi Mangiafoco chiamò in disparte Pinocchio e gli domandò come si chiama tuo padre? C'è petto e che mestiere fa? Il povero e guadagna molto? Eh, guadagna tanto quanto ci vuole per non aver mai un centesimo in tasca. Si figuri che per comprarmi l'abecedario della scuola dove vendere l'unica casacca che aveva addosso, una casacca che fra toppe e rimendi era tutta una piaga. Povero diavolo, mi fa quasi compassione, ecco qui cinque zecchini d'oro, vai subito a portarglieli e salutalo tanto da parte mia. Pinocchio, com'è facile immaginarselo, ringraziò mille volte il burattinaio, abbracciò a uno a uno tutti i burattini della compagnia. Anche i gendarmi, e fuori di sé dalla contentezza, si mise in viaggio per tornarsene a casa sua, ma non aveva fatto ancora mezzo chilometro, che incontrò per la strada una volpe zoppa da un piede e un gatto cieco da tutte e due gli occhi, che se ne andavano là là aiutandosi fra di loro da buoni compagni di sventura. La volpe, che era zoppa, camminava appoggiandosi al gatto, e il gatto, che era cieco, si lasciava guidare dalla volpe. Buongiorno, Pinocchio, gli disse la volpe, salutandolo garbatamente. E com'è che sai il mio nome? domandò il burattino. Conosco bene il tuo babbo. Dove l'hai veduto? L'ho veduto ieri sulla porta di casa sua. E che cosa faceva? Era maniche di camicia? Tremava dal freddo? Povero babbo, ma se Dio vuole da oggi in poi non tremerà più. E perché? Perché io sono diventato un gran signore. Un gran signore tu, disse la volpe e cominciò a ridere d'un riso sguaiato e canzonatore. Il gatto rideva anche lui e per non darlo a vedere si pettinava i baffi con le zampe davanti. C'è poco da ridere, gridò Pinocchio un permalito. Mi dispiace davvero di farvi venire l'acqua di Nambocca, ma questi qui, se ve ne intendete, sono cinque zecchini d'oro e tiro fuori le monete abute in regalo da Mangiafuoco. Pinocchio, al contrario di quello che si ritiene spesso, magari conoscendolo un po' superficialmente o conoscendolo soprattutto grazie al cartone animato di Walt Disney, viene ritenuto una fiaba divertente per bambini. In realtà è una storia molto straziante, molto triste, molto dolorosa. Io l'ho scoperta da ragazzino, forse sia come ascoltatore sia come spettatore di una serie piuttosto bella, quella di Comencini, che appunto andò in onda quando io ero bambino, a puntate sulla Rai. Il testo l'avevo amato, ma sento che è molto diverso lo spirito di quel libro rispetto a come è stato poi tramandato di un personaggio birichino che ne combina di tutti i colori, ma è una storia straziante di una creatura che nasce libera, che ha voglia di ridere, giocare, saltare, rubare la frutta dall'alberi, dare la caccia agli uccellini e che invece viene costretto da tutte le voci adulte che ha intorno a diventare un bambino vero, cioè un lavoratore, cioè uno che lavora, uno che si sacrifica, uno che non pensa allo svago. Mi fa molta tenerezza il personaggio di Pinocchio perché ha dei frequenti sfoghi contro se stesso, ha dei momenti di grandissima autocritica in cui dice tutta colpa mia, non sono stato bravo, lo sapevo, me lo merito, tutte le catastrofi che gli capitano, essere legato con un guinzaglio da cane o rischiare di finire in padella fritto dal pescatore verde, lui le vive con uno sconforto ma anche con un fortissimo senso di disistima di se stesso, cioè lui sente di avere una natura che non va bene al mondo e quindi si sente in colpa di essere quello che è. E tant'è vero poi la società, il mondo, il geppetto, la fatina, i carabinieri, lo trasformano, lo trasformano in un lavoratore, cioè in un bambino vero e perde la sua gioia e la sua libertà. La cosa straordinaria di questa narrazione, di questo racconto che poi è diventato così popolare nel mondo, forse uno dei testi più diffusi nel mondo in assoluto, è che è nato per caso, senza un progetto narrativo, tant'è vero che ci sono delle incongruenze che analizzandole con il senno di poi, dice come è possibile, la fata qui è una bambina, qui è una mamma, all'inizio parla di un personaggio descrivendolo minuziosamente che non tornerà mai più, Mastro Ciliegia, e dici ti aspetti ci sarà un colpo di scena, tornerà mai, ma no, c'è solo nel primo capitolo. Collodi scriveva a puntate per questo periodico fiorentino che si chiamava Il giornale dei bambini, in un periodo di grandissima Florida attività editoriale fiorentina, perché aveva bisogno di soldi, perché giocava, aveva dei debiti e aveva scritto già delle storielle per ragazzini, Minuzzolo, Ciuffetti, insomma aveva già collaborato con questa rivista e parte con questa storia di un burattino, non si chiama neanche Pinocchio quando inizia a pubblicarlo e le prime cinque puntate si concludono con questo burattino che muore stecchito, impiccato alla grande quercia. Arrivano però le lettere di protesta dei lettori che si erano affezionati, dicono perché finisce così male, perché la fata non lo salva. E allora a grande richiesta Collodi va avanti e si capisce che non ha una scaletta, come si dice in gergo narrativo, che insomma fa capitare gli eventi, a volte contraddicendo quello che aveva appena raccontato. Ne dico una, lui torna alla casa della bambina, da capelli turchini, lì descritta come una bambina e non ce la trova più, ma trova una lapide e la legge, ma lui non è mai andato a scuola. Il primo giorno che doveva andare a scuola viene per l'appunto traviato dal teatrino dei burattini e poi dal gatto della volpe. Quindi ci sono delle cose che si contraddicono, ma che danno la forza di questo racconto che esce fuori quasi in forma spontanea e improvvisata. Cioè lui non sapeva come sarebbe finito questo racconto. Leggendo, rileggendo e rileggendo tantissime volte Pinocchio non si finisce mai di sorprendersi, perché spesso appunto c'è in serbo una scoperta nuova nella rilettura di Pinocchio. In questo momento io sto facendo un'articolare attenzione ad articolare il meglio possibile il mio accento toscano rendendolo comprensibile, insomma, e quindi ho anche un briciolo di sforzo tecnico per quel poco che posso dare, però cerco anche di godermi la lettura perché altrimenti mi annoierei. E per esempio qui mi ha colpito, questa volta vedi che l'avevo notato altre volte, ma quanto è lampante. C'è quel melampo, il cane evocato da quel contadino che gli rubano le galline, le faine, e che per quella notte mette al guinzaglio Pinocchio e gli dà la cuccia del suo adorato melampo. Il cane melampo era un traditore e soprattutto non appare mai, non è mai, dicono che è morto. Le faine invece raccontano che era un mezzo imbroglione, insomma, che faceva finta di dormire e gli lasciava prendere le pollastrelle per poi averne una in cambio. E quindi ogni tanto ci sono come delle linee narrative che meriterebbero di avere degli spin-off e che probabilmente se il progetto di Collodi fosse stato concepito con calma, con una costruzione, ce l'avrebbero avute, perché è talmente pieno di spunti che viene voglia di sviluppare. Per esempio, appunto, chi era veramente melampo. Questa storia in realtà fa un po' soffrire i bambini, perché per l'appunto dice cose sgradite, dice che divertirsi è brutto e che bisogna faticare, dice che se pensi solo al divertimento diventi un asino, diventi un somaro, non solo, a dei momenti di autentico terrore, da fiaba nera, da racconto di paura, non sono solo le cose pericolose che avvengono a questo eroe burattino, cioè il fatto di rischiare di essere fritto in padella, finire in prigione, finire impiccato, ma è proprio la sensazione straziante di essere solo e incompreso. Per cui, in effetti, questa cosa va verso la concezione della fiaba nel senso proprio più classico, quella che era il racconto di paura, il racconto dell'orco, il racconto della morte e che in qualche maniera doveva servire a rendere accettabile il dolore, la tragedia del vivere. Ecco in questo senso il sollievo che prova il fanciullo a cui viene raccontata una storia anche di quelle classiche dei fratelli Grimm o di Anderson, che sono tutte storie piuttosto tetre, dove c'è un lupo, un orco, un pericolo e poi per fortuna il sollievo del lieto fine, ma questo lieto fine arriva attraverso esperienze anche tremende, il cappuccetto rosso viene mangiata dal lupo insieme alla nonna, finisce nello stomaco di un lupo, poi per fortuna arriva un cacciatore, ammazza il lupo e taglia il lupo, lei esce, vive e beceta, però c'è questa cosa qui, la consapevolezza della vita come esperienza feroce che c'è nelle fiabe classiche, Pinocchio ce l'ha tutta, assorbe questo compito che avevano le fiabe classiche. Tutti ci identifichiamo nel personaggio di Pinocchio perché è il racconto della tragedia del diventare grandi e del diventare cittadini, esseri umani, lavoratori e quindi di schiavi. Poi certo ci sono tantissimi personaggi coloriti intorno, divertentissimi e spesso appunto meriterebbero un'attenzione per dire c'è quell'Ali d'Oro che è un cane descritto come un cane poliziotto cattivissimo che cerca di catturare Pinocchio per portarlo ai carabinieri, ma Pinocchio si butta in mare, Alidoro scopre di non saper nuotare, Pinocchio risalva la vita e diventano i più grandi amici del giro di poche pagine e cambia anche il modo di esprimersi, il modo di parlare il lessico. Quindi insomma ce ne sono molti personaggi coloriti che meriterebbero lo spin-off, che meriterebbero ovvero un loro capitolo a parte. Non c'è dubbio che uno dei più belli strazianti è Lucignolo perché Lucignolo ha il destino amaro di diventare per l'appunto un ciocchino disperato. Pinocchio lo rincontra, lo riconosce, capisce che è Lucignolo, glielo dice e questo asinello piange e quella è una delle scene più tristi del libro.